Allora, ciao a tutti, siamo su Blog Mentale ancora una volta con Giorgio Canali, che è un autore che ci piace molto, ci piace seguire e ci piace incontrare prima dei suoi concerti. Ciao Giorgio! Ciao! Anche questa volta presenti Perle per Porci? Forse, non lo so. C'è una scaletta? Un paio di pezzi di Perle per Porci, non di più. No, suoniamo le cose di Rosso Fuoco. Poi stiamo praticamente ricostruendo la scaletta dei concerti sera per sera. Perché per un paio d'anni abbiamo suonato sempre le stesse cose. Ci siamo un po' rotti i coglioni, allora adesso guardo gli altri, ci guardiamo, diciamo proviamo a fare quella, la proviamo al check, spesso ci viene male, però la facciamo lo stesso la sera, sperando che ci venga bene. Ci va sempre male, però va bene. Vabbè, però c'è sempre il tuo seguito di persone che viene con entusiasmo. Ah, spero di sì. Sì, sì. Quindi non va così male, perché si crea quindi un feedback con il pubblico e piace proprio questa immediatezza. Sì, certo, credo di sì. Senti, c'è qualche progetto nuovo che possiamo raccontare ai nostri? Morire, morire, nei prossimi dieci anni voglio morire, sarà divertente. Ma morire così? Non uscirà. Morire fuori di qui? Morire, 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 anzi morire. Non usciranno Album Post, mi giuro. No? No, no, no. Non c'è niente in cantiere qui. No? Va bene, dai, ancora questi bellissimi concerti. Aspettiamo il concerto e vogliamo salutare gli amici? Ciao amici, ciao amici. Ciao, ciao a tutti da Gisa e da Giorgio Canali al First Floor di Pomigliano d'Arco. Ciao.